La struttura dell'atomo. L'atomo deriva come parola dal greco atomos, indivisibile. A senza, tomos, taglio. Per molto tempo, infatti, si è pensato che l'atomo fosse la parte più piccola in cui si divide la materia. Oggi sappiamo che l'atomo si divide in due ulteriori particelle. Gli elettroni, particelle con carica negativa, e i protoni, particella con carica elettrica positiva. Poi ci sono anche i neutroni che hanno carica elettrica neutra. Sono particelle prive di carica elettrica. Gli elettroni ruotano intorno al nucleo, costituito da protoni e neutroni. La massa di protoni è uguale alla massa di neutroni. Il nucleo, quindi, è costituito da protoni e neutroni e risulta a carico positivamente. Gli elettroni, invece, si muovono intorno al nucleo ad una velocità di 2200 km al secondo, pari al giro della Terra in 18 secondi, e formano la nuvola elettronica che circonda il nucleo. La massa dell'elettrone è più piccola rispetto a quello del protone di 1840 volte. La carica elettrica del protone è uguale alla carica elettrica del elettrone, ma di segno opposto, cioè la carica elettrica del protone è positiva, la carica elettrica del neutrone è negativa. In ogni atomo il numero di protoni e il numero degli elettroni è uguale, quindi è elettricamente neutro. Il numero di cariche positive dei protoni bilancia il numero delle cariche negative degli elettroni. Il numero di neutroni può cambiare da atome ad atomo che hanno lo stesso numero di elettroni e protoni e si chiamano isotopi. Ad esempio, se prendiamo un atomo con tre protoni e tre neutroni e tre elettroni, è possibile trovare un altro atomo con tre protoni, tre elettroni e sei neutroni. Questo atomo è un isotopo. Le forze elettriche. Esempi di forza magnetica, ad esempio della calamita che attrae a sé il ferro, o forza di gravità, che è la forza che attrae un corpo che dall'alto cade verso terra. Le forze elettriche sono forze che agiscono sulle cariche elettriche positive e negative. Le proprietà delle cariche elettriche sono due. La prima proprietà dice che le cariche possono essere positive o negative. La seconda proprietà ci dice che due corpi con cariche opposte si attraggono e due corpi con cariche uguali si respingono. Esempi. Strofinando due palloncini in un maglione di lana, possiamo vedere che milioni di elettroni passano dalla lana ai palloncini e quindi cariche negative passano dal maglione ai palloncini. Il maglione quindi perde elettroni e si carica positivamente. I palloncini, invece, acquisiscono elettroni e si caricano negativamente. Quindi, avvicinando tra di loro i palloncini, carichi negativamente entrambi si respingono. Mentre il palloncino verrà attratto dal maglione, perché il palloncino è carico negativamente, il pallone è carico positivamente. Nell'atomo succede la stessa cosa. Gli elettroni sono attratti dal nucleo, quindi gli elettroni con carica negativa sono attratti dal nucleo che ha carica positiva. Mediante questa forza elettrica, quindi, gli elettroni restano attratti al nucleo. L'atomo, in alcune situazioni, perde elettroni, cioè gli elettroni si allontanano dall'atomo. In questo caso, l'atomo diventa carico positivamente, poiché il numero dei protoni del nucleo supera il numero degli elettroni e quindi tende ad attrarre gli elettroni mancanti da altri atomi, fino a che poi si ristabilisce un equilibrio una volta che gli elettroni mancanti entrano nella nuvola elettronica di questo atomo e quindi torna neutro. Numero atomico. Le particelle che compongono tutti gli atomi di qualunque sostanza sono neutroni con carica neutra, i protoni con carica positiva, gli elettroni con carica negativa. Ciò che differenzia gli atomi dei diversi elementi è il numero di protoni contenuti nel nucleo. L'idrogeno è l'elemento più leggero ed ha un solo protone ed un elettrone che ruota intorno al nucleo. L'elio ha due protoni e due neutroni e due elettroni che ruotano intorno al nucleo. È utile identificare gli elementi in base al numero atomico. Il numero atomico di un atomo si indica con Z ed è il numero di protoni di quell'atomo contenuti nel suo nucleo e caratterizza ogni elemento. Si indica appunto con la lettera Z. Il numero atomico di ogni elemento si può scrivere ad esempio prendendo l'idrogeno aggiungendo al simbolo dell'elemento, il numero atomico, ad esempio Z uguale a 1. Quindi si riporta un piccolo numero in alto a sinistra rispetto al simbolo dell'elemento. Ad esempio H diventa H con esponente a sinistra 1 che è il numero atomico. Facciamo un altro esempio. Il ferro che ha un numero atomico di 26 si indicherà con F, simbolo del ferro, con esponente a sinistra pari a 26. L'uranio, che è l'atomo più presente in natura, che ha Z numero atomico pari a 92, si indicherà con U, che è il simbolo dell'uranio, con esponente a sinistra pari a 92. I gusci elettronici. Gli elettroni non possono muoversi liberamente ovunque intorno al nucleo, ma possono seguire soltanto alcune orbite. Sono zone in cui gli elettroni si trovano con maggiore probabilità. Queste zone sono dette orbitali o gusci elettronici. ciascun guscio elettronico può contenere un numero massimo di elettroni. Nel primo guscio, vicino al nucleo, c'è posto soltanto per due elettroni. Nel secondo guscio, più esterno, rispetto al primo e rispetto al nucleo, c'è posto al massimo per otto elettroni. Nel terzo guscio, c'è posto al massimo per diciotto elettroni e così via. Ma nel guscio più esterno c'è posto al massimo per otto elettroni, che entrano in gioco per le reazioni chimiche. Facciamo degli esempi. L'elio, HE, è un numero atomico di z uguale a 2, quindi HE con esponente a sinistra 2. Possiamo vedere, quindi, che in questo caso gli elettroni vanno a posizionarsi appunto nel primo orbitale, perché la tendenza degli elettroni è quello di posizionarsi subito nel primo orbitale, vicino al nucleo. Poi, se ci sono altri elettroni, questi si andranno a posizionare nella zona più esterna. Ad esempio, il fosforo, che si indica con P, con numero atomico z uguale a 15, è costituito con un nucleo di 15 protoni e 15 neutroni. Poi ci sono i primi due elettroni nel primo orbitale e gli altri 8 elettroni nel secondo orbitale e altri 5 elettroni nel terzo orbitale. Il neon, che si indica con NE alla 10, cioè numero atomico pari a 10, sarà costituito da 10 protoni e neutroni per il nucleo, da 2 elettroni nel primo orbitale, 8 nel secondo, mentre il sodio, che si indica con NA alla 11, con numero atomico uguale ad 11, sarà costituito da 11 protoni e neutroni nel nucleo, da 2 elettroni nel primo orbitale e 8 nel secondo orbitale e 1 nel terzo orbitale. Atomi elettricamente carichi. Se un atomo perde temporaneamente uno o più elettroni, fa sì che il numero dei protoni supera il numero degli elettroni, quindi diventa uno ione positivo, cioè carico positivamente. E se quell'elettrone finisce in un orbitale di un altro atomo, quest'ultimo atomo si arricchisce di un elettrone, quindi il numero dei protoni diventa inferiore al numero degli elettroni. In questo caso, questo secondo atomo si dice ione negativo. Gli ioni si rappresentano aggiungendo il segno della carica elettrica come esponente al simbolo dell'elemento, quindi in questo caso abbiamo il sodio, che si indica con NA, elevato alla più sulla parte sinistra e CL elevato con il segno meno. Infatti, ad esempio, il sale da cucina è costituito da ioni positivi di sodio, NA+, che hanno un elettrone in meno rispetto all'atomo di sodio ed è formato da ioni negativi di cloro, che hanno un elettrone in più rispetto all'atomo di cloro.